Classe al completo, aziende e studenti che fanno richiesta già per la prossima edizione e soprattutto e placement che anche quest'anno sarà del 100%. È stato un successo anche la quinta edizione dell'Executive Master in Digital Marketing, organizzato dalla Camera di Commercio Chieti Pescara nell'ambito delle attività di formazione promosse dal punto di impresa digitale, in collaborazione con il Dipartimento di Economia Aziendale dell'Università d'Annunzio e Ludanet. La direzione scientifica è di Walter Damario, della GoGo Academy, nell'ultima giornata di lezione e la consegna degli attestati. Sì, una grande soddisfazione. L'anno scorso abbiamo avuto il 100% di occupati e quest'anno con un'assunzione, prima che il Master termini, con una grande azienda italiana, la Icobit, che prende un nostro ragazzo e che diventa responsabile social, dimostra secondo me nei fatti e con i dati alla mano che questo è un percorso formativo che ormai nel centro Italia diventa punto di riferimento. Un progetto riuscito e altamente formativo, commenta la professoressa Michelina Venditti, direttore del Dipartimento di Economia Aziendale. Sicuramente è un corso molto importante perché forma Digital Marketing Manager con un profilo professionale elevato e che soprattutto, ma non solo, in periodi come quello attuale che stiamo vivendo, comporta l'inserimento di una cultura, necessita dell'inserimento di una cultura digitale all'interno delle imprese che soprattutto per un cambiamento organizzativo assolutamente importante e necessario per la sopravvivenza e la competizione delle imprese. Sotto questo punto di vista, questo corso dà gli strumenti, dà la formazione e nasce proprio dalla collaborazione tra la Camera di Commercio e il Dipartimento di Economia Aziendale dell'Università degli Studi di Chieti Pescara. Il primo a lavorare del corso è Vita Antonio Barone, assunto ancora studente da Icobit S.P.A. Esattamente, diciamo che questo Master in Digital Marketing mi ha dato i giusti strumenti e tutte quelle competenze e skills che possono servire nel mondo del lavoro, tant'è che addirittura prima della chiusura del corso ho iniziato una nuova esperienza lavorativa, la mia prima occupazione, presso una prestigiosa azienda del territorio e con il ruolo di responsabile dell'area Digital Marketing. Quindi sono davvero contento e onorato di questa occasione, di questa opportunità e devo ringraziare il Master e tutta l'organizzazione interamente grazie a loro è stato possibile raggiungere questo risultato.